Arrampicarsi come le scimmie Allora Le rane Non mi ricordo se sono da colpire o no Forse si sai Ahia eh si Ok i cinghiali Sono da colpire però aspetta un attimo Mi sembra esatto di aver visto qualcosa qui Addio suricato Ecco fatto Non iniziamo a lasciare giù Le ettere che vediamo in giro Mi raccomando Oh oh calmo Guarda lo sapevo che eri programmato per fermarti esattamente lì Lo sapevo Dentro di me lo sapevo benissimo Oh attenzione Ne sono sicuro anch'io Però prima di farlo Chiaramente Prima andiamo di sotto A prendere le monete E ora Possiamo risalire sulla liana Allora aspetta Posso salire più in alto Si posso Perfetto Vai No Come faccio Allora Come faccio ad ondolarmi Ah Devo darmi il colpo col quadrato C'era il barbatrucco Allora Datti il colpo Ecco fatto Ogni tanto non lo prende subito Noo Proviamo a saltare No Se non fai il La dondolata Non va Non va il salto Ecco fatto Grazie E via Proseguiamo Comunque ho sbagliato in realtà La dondolata Non è col quadrato Ma solamente ti devi dare Ui 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 Calmo Un altro colpo Con destra e sinistra Allora Lì c'era il disegno Bastarda Vedi qui Maledetta scimmia Ok vabbè qua Ci siamo menati a vicenda Ci siamo menati a vicenza Dove è andata la scimmia? Mi piace Dio mio È il 3D Dove Se lanci il frutto Segue la via Di dove dovrebbe essere il percorso No Cerchio Ah è bastardo? Esattamente come il gioco di Hercules qui Vedi Una piccola frattura nel pavimento E chiaramente Bastardo? Ecco fatto Stupida scimmia Più veloce di me A lanciare le Le noci di coco Ecco qua Stiamo decimando un'intera Popolazione di animali All'interno della foresta Ma sembra che al gioco Freghi Relativamente poco Aia Allora calmi Dai Non so perché oggi Tarzan è poco reattivo Nei comandi Non capisco come mai Calmo Aspetta Non andare Subito Aspetta Ok Esatto Vorrei provare un secondo A meno che non sia più avanti E mi sa di no Aia Dicevo Volevo provare ad andare un attimo Qua sopra Tarzan però Che cavolo Anche tu salta Salta Maledetto Ok Ecco fatto Bravo Eccoci qua Oh calmo calmo E comunque abbiamo appena Realizzato Che i tucani Non si ammazzano Ecco qua Però ti colpiscono Ti colpiscono senza problemi Ma se tu provi a colpire loro Te lo sogni Allora qui c'è il disegno Allora Prima di scendere Finiamo un attimo il percorso Anche se ho paura Che più avanziamo Più non potremo tornare indietro Vero Ulla Madonna Allora calmi un attimo Yippee Allora Dai Sti comandi Oggi Maledizione Allora Andiamo di sotto Poi dopo Risaliamo Ah ma aspetta No ti prego No vaffanculo Mi sono fatto tutto il percorso difficile Per niente io Oh A giusto Ecco qua Dai Tarzan Porca miseria Oggi Che problema C'hai coi comandi Che non vuoi andare Dove ti dico Oh Calmo Ecco fatto Oggi Tarzan Non fa i colpi per terra Non lancia i frutti Boh Vuole morire Per caso Qui intanto Cerco Di prendere Tutto il possibile No Tarzan Maledizione Oggi Oggi ti asparo Ti sparo prima del tempo Ecco qua E abbiamo trovato la R Perfetto Sembra che non stiamo perdendo lettere Perlomeno Perlomeno Sembra che stiamo andando Nella direzione giusta Ok Oh calmo Come ho detto Il coltello Purtroppo È esattamente come me lo ricordo Inutile Calmo Ok Questa era molto telefonata Che Ci fosse Qualcosa da fare Per tornare indietro Questa era Abbastanza ovvia Calmo Ecco Qui Oh Ok Dobbiamo farlo Un po Più in alto Bravo Ah fuck Prendilo Tarzan però Che cavolo Oggi veramente Non vuole collaborare Per niente Ecco qua Ok E ho paura di cadere di sotto Più che altro Non vorrei che Cadendo Perdiamo qualcosa Posso salire? No Peccato Allora Qui Qui Sembra che Stiamo andando Nella direzione Giusta Qui Ci sono Due liane Il che Esatto Vuol dire Che dovevamo Prendere Questa lettera Oh Comunque Il gioco È meglio Di quanto Mi ricordassi O meglio Nel senso Non meglio Di quanto Mi ricordassi È comunque Fatto Molto bene Non che La cosa Mi sorprenda Anche giochi Semplici Come quello Della carica De 101 Per quanto Fosse Semplice Ok Qua è meglio Passarci dopo Per quanto Ripeto Fosse Molto più Semplice Di questo Di Ercole O che ne so Di altri Gio Anche solo Delle foglie Dell'imperatore Ha veramente Tanto Ha veramente Molto Di buono Questo gioco E credo Ci saranno 200 monete Perché No Beh Forse Sai di più Forse sai che sono Di più Le monete Però Siamo arrivati Già alla fine Siamo arrivati Alla fine E ci mancano Due lettere Non mi sembra Di essere No No Sono più Di 200 monete Sono più Per forza Allora Aspetta Cavolo C'era sicuramente Qualcosa Qualcosa Ancora Dall'altra Parte Però Il disegno L'abbiamo presi Tutti E la lettera Era qui Aia Allora La Era nel mezzo Quindi Per forza Di cosa Era la via Giusta Però Mi sembra Strano Che me La fai Finire Lì Ok Perfetto Invece Invece Siamo andati Dalla parte Giusta Ah Aspetta Ecco Fatto Completato E mi sa Sto giro Anche A livello Di monete Non penso Di averne Mancata Neanche Una Giusto Gioco Ecco Qui Credo Spero Almeno Non penso Ci siano 300 Monete 300 Monete Ripeto Anche perché Abbiamo trovato Le lette Tutti i disegni Per forza Di cose Alla fine Me lo ricordo So cosa succede Qua adesso Ah no Invece no Pensavo Che era il pezzo Dove dovevamo Buttarci di sotto E basta Oh cavolo Ecco Perso le monete Aia Aia Ma io mi posso Ah si posso Abbassarmi Perfetto Spero che non le conti Quelle mancate Su questa parte Questa parte Mi sa che è più facile Farla con le frecce Più che con l'analogico Dio mio Meno male che non Non cadi Aia Pensavo di essere passato Questa dà la profondità A fregarmi Eccoci arrivati Eh no Mi sa che erano davvero 300 Più di 300 monete Forse a questo punto Non lo so Forse si Forse no Si 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 Palesemente Peccato Peccato Siamo andati bene Fino a che non siamo Scivolati lì Caricamento in corso Eravamo andati bene Cavolo 95% 95% Che fastidio Che fastidio Salve Che fastidio Livello completato Perfetto Le monete alla fine Abbiamo mandato a cagare E divertiti nella giungla Facciamoci il livello bonus Congratulazioni Hai vinto un filmato Livello bonus A cavallo di una Cicogna Dai Livello automatico Sì Oh cavolo Aspetta Cerca di prenderli però I frutti Non come l'altro giorno Che gli passi davanti E non li prendi Cavolo Ah ma i livelli bonus Cont Ah fuck Conteggia Anche le monete Degli altri Livelli bonus Cioè Se eravamo Esatto A 100 con le monete Prima Nel 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 Rimani A 100 Anche per Queste Qua Il che Vuol dire Che è molto comodo Magari Rifarti un livello Veloce Che sai dove trovare Tutte quante Le possibilità Di farti il livello bonus E ti vai a farmare Un po' di vite Siamo arrivati alla fine Non vedo più niente Sì Ah Non pensavo che Queste livelli Avessero una fine Pensavo avessero La possibilità di andare All'infinito Vabbè Non siamo andati malissimo Una vita L'abbiamo presa A quanto stiamo 8 vite 70 monete Nei livelli bonus Non male Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti